Gabriele Faurino, intenzialista televisivo, non pensavo di avere tante difficoltà per partecipare a questa marcia notazza, da Lione, come si chiama, fino a Chiumonte, in mezzo ai sentieri, devo dire, insomma, è un'interessante quella, però che forse non considerare a tutti perché uno deve venire un po' preparato, vedete, proprio in mezzo ai massi sono passato, con l'aiuto anche di alcuni volontari notando, vedete, stanno aiutando, stiamo raggiungendo ovviamente il punto cruciale, vedete anche gli agricolti e la polizia, incontriamo, questo è la Val di Susa, è giusto manifestare il punto della notazza, ovviamente, quindi mi faccio vedere anche tanti cittadini.